Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri e il deputato Andrea Colletti hanno presentato un esposto alla procura della Corte dei Conti per chiedere accertamenti rispetto ai movimenti economici tra la regione e una ditta che ha fornito merce ed ha effettuato lavori presso i palazzetti dello Sport di Chieti, Lanciano, Ortone e Vasto in occasione di Euro Basket 2007. Regione Abruzzo, hanno spiegato nel corso di una conferenza stampa, si è trovata a dover contrastare le richieste della ditta che a suo dire era creditrice di cifre oltre il milione di euro. Ad oggi ci troviamo a pagare più di un milione e mezzo di euro perché la regione Abruzzo non si è opposta ai degredi ingiuntivi di Bertelet che sono relativi alle prestazioni della ditta del 2007. A questi degredi ingiuntivi gli altri membri del comitato organizzatore del 2007 per Euro Basket si sono opposti con successo, la regione incomprensibilmente no, non tanto incomprensibilmente perché in realtà abbiamo un problema di comunicazione tra gli uffici, abbiamo un corposo carteggio tra l'avvocatura regionale e gli uffici che dovevano verificare la sussistenza di questi debiti verso Bertelet, questi uffici sono stati riorganizzati più volte come tutto il resto dell'apparato regionale. a nostro parere in una maniera che non consente l'efficienza ma piuttosto persegue altri scopi. Evidentemente il Presidente D'Alfonso in questa sua decantata riorganizzazione sin dal primo momento in cui è arrivato ci ha promesso una regione facile e veloce, in realtà la regione non si è riorganizzata per essere facile e veloce ma per essere controllata forse dal Presidente in maniera più stringente con uomini chiave nei posti chiave.